buon pomeriggio buona domenica delle palme a tutti come raccontare la crisi come la si sta raccontando noi stiamo vivendo una crisi senza precedenti perché una crisi globale in questo momento in tutto il mondo in tutto il pianeta tutti i giornali le televisioni le radio i settimanali i siti tutti stanno parlando di coronavirus tutti stanno parlando di questa epidemia della pandemia covid 19 è quasi come se tutte le altre notizie tutte le altre informazioni tutte le altre storie fossero scomparse ho pensato che la persona giusta per parlare di questo del racconto che nel mondo si sta si sta facendo fosse giovanni de mauro giovanni de mauro è il fondatore e il direttore di internazionale e oggi pomeriggio è con noi ciao giovanni ciao buongiorno a giovanni tu hai fondato internazionale era il 1993 3 3 quindi sono 27 anni sono andato a guardare su questo numero hai fatto 1352 numeri si sono 27 anni che tu tutti i giorni fai uno screening di tutta la stampa del mondo per cercare cosa davvero vale la pena io insomma diciamo insieme alla redazione naturalmente da solo non potrei mai fare questo lavoro ovviamente insomma siamo tanti tanti ormai quanti siete abbiamo cominciato in quattro e ora siamo più o meno una quarantina di persone in relazione grande sì tra l'altro internazionale è una settimanale ed è un giornale in controtendenza perché mentre la carta declina in tutto il mondo internazionale invece tiene cresce è solido adesso non ti voglio mandare la finanza con questo sì sì solido cresce e cresce soprattutto tra lettori più giovani questa è la cosa straordinaria ci arrivano le email di ragazze e ragazze che vanno al liceo alla scuola secondaria eccetera insomma questo devo dire fa molto piacere poi lo vediamo a ferrara al festival che facciamo ogni anno tu ci sei venuto qualche volta le file sono sempre di persone giovanissime insomma è incredibile questo ecco giovanni partiamo da da questo ultimo numero questo numero a questo titolo che dice emergenza coronavirus negli stati uniti fallimento il fallimento del paese più ricco del mondo allora hai preso un lunghissimo articolo dell'atlantic del suo giornalista scientifico di di materie medico scientifiche c'è young ecco perché hai fatto questa scelta tanto c'è una foto pazzesca in copertina di questa new york deserta con solo un un ciclista perché hai fatto questa scelta che cosa volevi raccontare con questo guarda noi diciamo da da quando è cominciata l'emergenza la crisi stiamo facendo ovviamente la copertina sempre in qualche modo intorno al coronavirus e quindi ci siamo posti il problema anche di come continuando a fare copertine sul coronavirus che avessero questo come focus principale però occuparci di come dire spostare l'attenzione su pezzi particolari anche con lo spostarsi della una delle cose interessanti che stiamo registrando scusa apro e chiudo una parentesi rapidamente in queste settimane come questo 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 scarto di tempo che c'è no in giro per il pianeta rispetto alla diffusione della della pandemia cominciata in cina poi spostata arrivati in europa in italia eccetera eccetera stia producendo un racconto come dire come fuori sincrono in cui oggi cominciamo abbiamo cominciato a vedere negli stati uniti un tipo di racconto e di immagini fotografiche di articoli eccetera che qui in italia ne abbiamo visto 15 giorni o tre settimane fa addirittura e questo lo si vede proprio su tutto il pianeta insomma su come si sta progressivamente spostando e come da una parte più o meno le cose che si raccontano sono simili e dall'altra interessante notare le differenze nel caso degli stati uniti a cui abbiamo dedicato la copertina perché è proprio in questa settimana in queste paio di settimane che lì l'emergenza sta esplodendo in tutta la sua drammaticità e racconti che arrivano da new york sono sono terrificanti insomma no cominciano a assomigliare a quelli che abbiamo conosciuto da vicino di bergamo di brescia delle settimane scorse ci interessava in particolare con questo articolo raccontare questa contraddizione o apparente contraddizione perché poi forse non è così non è così non è così sorprendente tra quello che è il paese più ricco del mondo in termini di di potenza complessiva economica militare culturale perfino eccetera eccetera e la sua eh totale eh in preparazione nell'affrontare una crisi su cui avevano non solo gli strumenti ovviamente economici ma anche gli strumenti di come dire la la possibilità di arrivare in anticipo insomma no? Cioè hanno avuto un mese di vantaggio rispetto al resto del pianeta o a paesi appunto comunitari o alla Cina addirittura un mese e mezzo o due e non hanno saputo sfruttare avendone gli strumenti sanitari medici economici questo vantaggio per riuscire a a frenare eh quello che si annuncia come una situazione catastrofica soprattutto ovviamente per le fasce più deboli della popolazione insomma no? Un paese dove l'assistenza sanitaria è come dire qualcosa di molto molto diverso da da quella che conosciamo noi qui. Ecco questo che tu hai detto è incredibile come nessuno l'Italia non ha usato il vantaggio che aveva sulla Cina. La Francia e la Gran Bretagna non hanno usato il vantaggio sull'Italia e gli Stati Uniti che avevano più vantaggio di tutti due mesi sulla Cina perlomeno un mese sull'Italia quindici giorni sulla Gran Bretagna anche loro non hanno fatto. Quasi che ogni paese ha creduto di essere in un certo senso eccezionale speciale. Sì 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 è così è incredibile l'abbiamo visto anche insomma no? Immagino chi ha amici amiche all'estero in Francia in Spagna in Germania in Inghilterra no? Insomma i racconti di stupore da tutte e due le parti nostre nei loro confronti e loro nei nostri confronti insomma no? Nel dire come è possibile che vi trovate no? Magari a una settimana a quindici giorni di distanza dall'Italia ancora a uscire andare a festa al cinema la sera fuori eccetera eccetera non vi rendete conto che è tempo prezioso che potete guadagnare. Io credo che sia un meccanismo anche in parte molto umano insomma no? Quello di pensare come dire un po' forse un modo come mettere la testa sotto la sabbia da un certo punto di vista no? Speri che quella cosa in qualche modo non ti riguardi e che quindi tu per una ragione misteriosa e insondabile passi così attraverso e poi però purtroppo non è così. Hai fatto in questo numero ci sono a me ha colpito anche lo sguardo su altre cose per esempio sull'India. Sull'India avete pubblicato questo articolo dell'India Express in cui si evidenzia una cosa che per noi non ci verrebbe in mente cioè che in India si rischia di avere più morti per fame e per appunto per la chiusura di tutte le attività economiche che per noi. Questo è un tema di cui credo ci occuperemo ancora più approfonditamente la settimana prossima nel prossimo numero nel senso che il lockdown la sospensione delle attività la chiusura delle città eccetera è qualcosa che funziona in una parte del mondo in un'altra parte del mondo dove per esempio l'economia informale è prevalente e però questo vuol dire nella gran parte del pianeta in realtà bloccare le città fermarle come l'abbiamo fermate in Europa o in Nord America eccetera non solo è tecnicamente quasi impossibile ma rischia di essere controproducente nel senso che poi rinchiudere le persone in case che non hanno servizi di igienici adeguati con acqua non potabile eccetera eccetera rischia di in tante in poco spazio rischia di produrre più guasti di quanti diciamo cerchi di di compensarne e di evitarne e quindi probabilmente lì bisognerà trovare altri modi per contrastare poi c'è un problema di disponibilità economiche nei paesi europei in Nord America è possibile in parte in America Latina è possibile hai uno stato che è in grado in Estremo Oriente uno stato che è in grado di iniettare diciamo di sostenere il sistema economico complessivamente con grandi disponibilità e riserve in altri paesi questo non è possibile quindi diciamo rischi semplicemente di far collassare delle economie insomma l'articolo che pubblicate voi mette l'accento sul fatto che il 70 per cento di quelli che lavorano in India lavorano in modo informale baracchini per la strada in nero eccetera eccetera si dice ma tutti quelli senza tetto i bambini di strada tutta la gente che vive a Delhi ma che viene dai villaggi è stata cacciata per esempio da Delhi da Mumbai e sta facendo un ritorno a casa in queste carrovane a piedi che sembrano quando l'indipendenza dell'India la partizione tra India Pakistan e Bangladesh queste cose catastrofiche che sembravano appartenere alla storia io voglio chiederti questo come le 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 scegliete le storie cioè ci sono delle proposte c'è un certo punto mettete una serie di storie sul tavolo e scegliete quelle come poi viene fatto questo lavoro di selezione parli di queste del generale o queste del coronavirus internazionale prendendo anche in questo momento guarda sono due tendenzialmente due criteri se vuoi che ci guidano anche sono me non sono molto diversi da quelli degli altri giornali da una parte c'è un come dire un criterio diciamo così oggettivo cioè c'è una notizia un'elezione importante un attentato una crisi economica il coronavirus è evidente che noi in quel numero ci occuperemo di quella storia di quella notizia cerchiamo su quello articoli e su quello ci saranno e poi c'è un criterio come dire più soggettivo che è legato a che gussi o gli interessi personali degli editor che selezionano gli articoli che leggono la stampa straniera che poi scelgono gli articoli secondo loro più interessanti e lì è un criterio appunto che magari è dove si viene evitati dalla sorpresa o da quello che si è imparato e capito da un tema che sembra nuovo da qualcosa che incuriosisce per ragioni che possono essere anche appunto molto personali e in genere sono questo secondo tipo di articoli quelli che poi lettori e lettrici sembrano apprezzare di più abbiamo avuto un per tanto tempo uno degli articoli più amati dai lettori e dai lettrici di internazionale era un racconto forse l'avrei letto che era una storia un articolo ma non un racconto una storia vera uscita su Harper's Magazine negli Stati Uniti che raccontava di questa nave cargo che trasportava paperelle gialle quelle di plastica nel bagnetto che era fondata e si era disperso questo carico questo articolo raccontava la riemersione in giro le spiagge di tutto il mondo di queste paperelle gialle l'articolo come dire non esattamente di stretta attualità eppure è stato per tanti anni l'articolo che chi ci incontrava ci citava come l'articolo che aveva più amato per dire che appunto poi spesso sono questi articoli così completamente senza tempo quelli che più sono apprezzato questa settimana avete questo articolo portentoso che non è un articolo tra l'altro nuovo l'avevate probabilmente messo via per altri tempi quello indiano famiglia indiana che viveva sì 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 l'ho letto qualche mese fa questo pezzo sì sì pazzesco pazzesco era quello anche un articolo in questa settimana appunto stiamo anche facendo lo sforzo difficile di pubblicare cose che non parlino di coronavirus difficile perché appunto dicevamo l'altro giorno quando ci siamo sentiti e lo ricordavi te anche ora all'inizio da tutti i giornali non solo giornali mezzi di informazione è sostanzialmente sparita qualunque cosa che non sia coronavirus insomma no si fa una gran fatica a trovare altro credo che non ci siano uguali nella storia del diciamo del giornalismo se vuoi rimanere nel nostro piccolo insomma di una così omogenea e compatta nel senso che perfino grandi eventi no l'undici settembre la crisi del 2008 eccetera hanno interessato soprattutto alcune parti del del pianeta e a molte molto meno altre insomma e quindi comunque riuscivi un po a trovare magari una stampa neozelandese oppure brasiliana cose che non fossero legate a qui invece è impressionante quanto diciamo è dilagato dappertutto e in profondità nei giornali questa settimana a mettere me le sono segnate una storia sullo Yemen una sul Venezuela una sul Sudan una su wikipedia e una bellissima su questa catena di supermercati norvegese che si chiama olbar che olbar vuol dire sostenibile in norvegese che sostanzialmente raccontala tu cosa vende raccontala te non è evidente ora è vero che le fatiche del cronista non fanno notizia come si dice però non è evidente in queste settimane riuscire a tirar fuori queste storie alcune sono naturalmente precedenti anche qui c'è un problema no che ci stiamo ponendo di come se come se fa strano che occuparsi oggi di Yemen o di India o di Norvegia con la catena di supermercati eccetera eccetera farlo senza citare o nominare in nessun modo il coronavirus insomma è chiaro che in parte sono articoli scritti prima che nei rispettivi paesi poco prima o durante l'esplosione nei rispettivi paesi dell'emergenza di queste settimane credo che questo problema lo avremo da un certo punto di vista ancora di più più in là no e non solo noi l'altro giorno probabilmente sarebbe inondati di romanzi saggi film tutto quello che ha a che vedere con la produzione diciamo di immaginario culturale di spettacoli diciamo diciamo sarà pervaso e colonizzato diciamo impriso di coronavirus direttamente o indirettamente io temo per per i mesi a venire forse anche più in là insomma no e questo è un'eredità che invece dovremo trascinare della del coronavirus ti dico questo raccontavo dei supermercati perché dei supermercati è interessantissimo che questi supermercati vendono tutto ciò che è vicino alla data di scadenza quello che gli altri negozi gli altri supermercati rifiutano e loro dicono beh non è che il tonno a cinque giorni dalla scadenza il tonno a una data simbolica dice marzo preferibilmente non è che se tu lo mangi il 5 aprile da un giorno all'altro scade e fanno un tacco di soldi vanno benissimo meno della metà e va benissimo e ho scoperto che l'italia da una tabellina che avete pubblicato voi in italia sprechiamo buttiamo via 180 chili di cibo a testa l'anno mentre per esempio in grecia 80 e quindi è un è un tema vero però per esempio ci sono delle attualizzazioni perché secondo me oggi è una mia sensazione noi a casa io trovo che a casa oggi quando vivi pranzo cena pranzo cena tutti i giorni a casa stiamo sprechiamo di meno anche perché usciamo di meno compriamo di meno io mi ritrovo a fare queste cene anche con i pranzi tirando fuori gli avanzi ricombinando le cose come vedevo fare a mia nonna e che non abbiamo fatto e quindi cuciniamo anche molto di più e devo dire c'è c'è in un certo senso questo e ti voglio dire una mi racconti abbiamo ancora un due tre minuti mi racconti come è nato internazionale è nato un po casualmente perché noi abbiamo un cugino vicino francese che si chiama courier internazionale che usciva da qualche anno prima di internazionale e che per caso ho scoperto un'estate in vacanza in francia con un gruppo di amici insomma e con gli stessi amici con cui l'abbiamo scoperto abbiamo pensato che quella era una cosa interessante da fare in italia ero l'unico giornalista l'unico l'unico che già lavorava insomma perché appunto all'epoca avevo 26 25 26 anni gli altri erano un po più giovani di me abbiamo passato un paio d'anni a cercare i soldi per farlo e poi e poi siamo riusciti a partire loro hanno lasciato l'università io lavoravo all'unità e sono andato a fare appunto internazionale e poi in realtà poco prima che internazionale nascesse sempre un po per caso abbiamo scoperto di aver avuto un antenato italiano si chiamava il mese e usciva appunto una volta al mese e durante la seconda guerra mondiale un gruppo di antifascisti probabilmente azionisti si era spostato a londra e da lì faceva un mensile in cui raccoglievano articoli usciti sui giornali dei paesi ancora liberi li traducevano in italiano lo stampavano è un formato libretto diciamo quindi non giornale non rivista e cercavano di far arrivare queste copie in italia quindi scoprimmo in realtà di essere stati ispirati da un giornale francese ma di avere un antenato italiano anche di certo prestigio e naturalmente anche insomma dire bello da un punto di vista così simbolico e politico insomma il fatto di aver avuto una un precedente come 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 questo giornale di fatto tanti fascisti che erano andati a londra bellissimo nato così giovanni in bocca al lupo e ti ringrazio molto del racconto a te e a voi grazie ciao e grazie ciao e da qui andiamo a madrid a madrid c'è thomas gualtieri thomas gualtieri è italiano romano ha studiato un giornalista che ha studiato alla sapienza di roma poi ha fatto un è andato poi a studiare a londra e ha fatto poi la scuola di giornalismo a madrid alla scuola di alle scuola del periodismo del paese e quindi ha studiato al paese e lì al paese poi è rimasto a lavorare per tre anni e mezzo adesso invece da tre anni e mezzo è corrispondente da sempre dalla spagna per l'agenzia bloomberg allora io ho conosciuto thomas anni fa quando lui era al paese ho pensato di chiamarlo perché ha un punto di vista anche un occhio ancora italiano ma globale avendo vissuto londra vive in spagna e mi piacerebbe che ci raccontassi questa madrid che ormai come numero di morti i morti in spagna stanno raggiungendo i morti italiani pur essendo la spagna indietro di qualche giorno rispetto all'italia come partenza della dell'epidemia mi pare che a ieri sera fossero 11.744 i deceduti e il primo ministro ha già annunciato noi siamo al lockdown alla chiusura siamo al 13 aprile e la spagna già ha annunciato il 26 aprile e anche andare là ci racconti qual è la situazione a madrid e in spagna si buonasera e la situazione è esattamente come la descrivevi tu è una siamo al ventiduesimo giorno di lockdown e sanchez il primo ministro annunciato ieri appunto come dicevi che si prolungherà fino al 26 di aprile e la città oltretutto è o meglio la regione di madrid è un po per così dire la lombardia spagnola no è qui chiaramente l'epicentro dell'epidemia qui in spagna e quindi è una città come potete immaginare totalmente deserta e dove anche le attività non essenziali sono state sono state bloccate e dove si sta provando a farsi insomma a cercare di contrarrestare tutta la situazione tutta questa situazione dovuta alla alla all'epidemia con le reparti terapia intensiva intensiva al collasso con i corpi militari che stanno portando a termine dei lavori specifici in connessione appunto con con la situazione insomma dove si stanno verificando scene che sono purtroppo comuni a molti paesi europei ecco ti voglio chiedere questo thomas e come come la stanno vivendo gli spagnoli tu sei a madrid a madrid le persone stanno in casa rispettano le chiusure c'è polemica che tipo di di atteggiamento c'è ecco vediamo qui una piazza questa è cos'è plaza del sol si quella porta del sol si porta del sol eccola lì sì la porta del sol mai vista così no è vero diciamo la porta del sol in particolare è dove confluiscono le principali vie commerciali di madrid per cui è generalmente sempre molto affollata e quindi insomma si effettivamente è un una foto che fa abbastanza impressione e in generale gli spagnoli stanno stanno rispettando le regole ci sono si registrano ogni giorno anche qui dei casi di persone che non rispettano le misure restrittive ma insomma la stragrande maggioranza degli spagnoli rispetta rispetta questo questo lockdown chiaramente le polemiche ci sono ci sono per una serie di motivi in primo luogo perché quando già l'epidemia era abbastanza avanzata in italia qui si è deciso di andare avanti di non proibire di non proibire certe manifestazioni quindi in particolare l'otto marzo c'è stata una grande manifestazione dovuta sostanzialmente al fatto che il movimento femminista è molto forte qui in spagna e che ha letteralmente inondato le strade di molte di molte città compresa compresa madrid chiaramente dove c'è stata la manifestazione più grande e quindi ci sono state più di di centomila persone in piazza e è un diciamo questo discorso questo fatto che molta gente sia andata in piazza quando l'epidemia era già una cosa seria in paesi molto vicini come l'italia è una recriminazione che l'opposizione non smette di fare al governo e l'altro discorso è che gli equilibri da un punto di vista politico sono abbastanza sottili perché il governo è un governo di minoranza e quindi dopo i primi quindici giorni del diciamo del lockdown che loro possono che hanno potuto approvare per un decreto senza l'appoggio del parlamento a partire dai dai secondi quindici giorni hanno dovuto invece chiedere l'appoggio e quindi è un appoggio che ogni volta devono eh devono guadagnarsi che chiaramente viene loro dato perché è la situazione quella che è ma che diciamo non è così scontato come potrebbe essere da eh d'altre parti per cui la situazione è anche insomma questo questo aspetto politico che non è non è esattamente semplicissimo per il governo ti faccio una serie di domande secche le mascherine ci sono eh lì oppure come in Italia c'è stata grande difficoltà a trovarle? No c'è stata grande difficoltà c'è stata grande difficoltà e soprattutto per quanto riguarda diciamo le mascherine che devono arrivare poi al al personale sanitario quindi ci sono stati anche articoli che abbiamo scritto anche Bloomberg ha scritto un articolo su questo di eh personale sanitario che è stato costretto in un primo momento a imposare eh buste della spazzatura per costruire insomma delle dei sistemi di protezione un po' di fortuna poi ehm poco a poco il materiale è cominciato ad arrivare eh c'è stato un problema perché una prima serie di eh di test che sono arrivati eh non funzionavano e quindi il governo li ha dovuto rimandare indietro insomma eh i problemi ci sono stati anche qui. Ecco i i si stanno facendo a chi vengono fatti i tamponi i test. Ma eh per quanto riguarda questa situazione è un po' complicata in Spagna ehm diciamo la eh le competenze della sanità sono eh delegate alle regioni per cui ogni regione sta eh agendo in maniera diversa eh ci sono regioni come per esempio. Anche in Italia eh la sanità. Anche in Italia è così certo. Lo spiegavo lo spiegavo chiaramente riprendomi riprendomi alla Spagna. Ehm ci sono regioni eh come per esempio la Galizia nel al nord ovest del paese dove eh addirittura da qualche giorno i test vengono fatti in maniera abbastanza capillare per così dire perché c'è un test per cui basta andare con la macchina e avvicinarsi nei nei punti preposti diciamo il test viene fatto senza anche scendere dalla macchina per cui se ne riescono a fare molti e invece altre regioni dove la situazione è è è un po' più complicata. Adesso eh per quanto riguarda il discorso un dibattito di cui si parla chiaramente non soltanto qui eh ovvero che cosa fare per eh le persone che probabilmente hanno eh sono state infettate ma ma non hanno sintomi. Oggi si eh si si è anche cominciava a parlare di creare delle strutture per far sì che gli asintomatici possano essere messi in isolamento e poi vedere eh da là poter fare poter fare un un monitoraggio però insomma sono ancora discussioni che sono sono in itinere. Ascolta esistono anche lì moduli di autocertificazione per uscire? Eh no non c'è un modulo come in Italia non c'è il famoso eh che cambia più di una volta però bisogna fare quello che loro chiamano una una eh dichiarazione giurata cioè se la polizia ti ferma eh devi devi specificare per che cosa stai facendo sostanzialmente i diciamo i motivi per cui si può uscire sono sostanzialmente gli stessi che in Italia. Prima necessità a farmaci eccetera. Come si sta in politica? Tu hai detto il governo ha bisogno del voto eh anche delle opposizioni. Eh c'è unità nazionale di fronte a questo o o o continua la polemica politica? No mh c'è una una unità eh linea di massima. Il governo è un governo ehm che si basa su un'alleanza tra i socialisti e un eh un partito alla sinistra dei socialisti che si chiama Podemos e eh in questo momento perlomeno per il primo blocco di misure ha ricevuto comunque l'appoggio anche del soprattutto il principale partito dell'opposizione che è il Partito Popolare un partito appunto conservatore eh però mh è stato recriminato al al primo ministro a Pietro Sanchez di non eh di prendere delle decisioni senza consultare le opposizioni e di diciamo portare avanti delle appunto questa 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 come posso dire eh quest'idea di 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 andare avanti per conto proprio e e quindi insomma quello che 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 gli si sta recriminando è che se vuole una partecipazione attiva delle delle opposizioni deve anche convolgerli di più nel processo decisionale. Però per il momento per il momento insomma per quanto le polemiche ci sono le le c'è una una certa compattezza. Va bene. Thomas grazie tantissimo del tuo contributo di capire che cosa sta succedendo anche lì. Benissimo. E eh eh un aspetto che stiamo vedendo ovunque eh nel mondo in Italia è uno dei dei temi eh cardine intorno al tema dell'apertura e delle riaperture è quello dei delle attività dei negozi, delle produzioni, delle attività, i ristoranti, i bar, le librerie, tutto tutta la produzione agricola. Allora ho pensato che questo valesse la pena andare ad approfondire questo tema. Allora ho invitato Paolo Massobrio. Paolo Massobrio è un critico enogastronomico ma inventore di una guida, la guida del Golosario e anche di un festival che si chiama Golosaria. Eh benvenuto Paolo. Ciao Mario. Metto in onda. Eccoti. Ciao Paolo. Ciao. E e Paolo però non è un diciamo così non è uno di quei critici enogastronomici specializzato in chef stellati. Diciamo così che è più un amante delle storie di territorio. Io devo molto a lui perché ogni volta che devo cercare delle storie del territorio telefono a lui e gli chiedo di orientarmi eh per per capire e per vedere. E quindi io vorrei capire tu hai sei una persona che ha il polso sia dei produttori da chi fa vino a chi produce le pesche in barattolo da 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 chi fa le verdure alle trattorie ai ristoranti. Com'è il polso del paese in questo momento? Ma il polso del paese è è drammatico con tante ombre e qualche luce eh per esempio eh beh questo l'hai toccato con mano anche tu eh intervistando Aldo Bongiovanni che è un eh un produttore di farine eh e i produttori di farine non riescono a star dietro agli ordini i murini non riescono a star dietro alla produzione perché la domanda è alta. La gente compra farina eh fa da mangiare fa le torte perché la torta la ricetta in un momento di crisi è una cosa che riesce almeno quello mi riesce. Psicologicamente eh ci si butta anche eh con le mani in pasta. Il burro non si trova più, il lievito non si trova più e di conseguenza eh ne beneficiano questi produttori. Mh qualche luce si vede sul vino perché i produttori di vino mi hanno dato dei segnali che non immaginavo. Cioè hanno ricevuto anche degli ordini addirittura dalla Cina, dall'estero poca roba eh rispetto a quello eh che era mh nel recente passato e che sosteneva la nostra vitivinicultura. Però sono segnali, segnali incoraggianti che dicono una cosa cioè un affetto verso l'Italia e un'affezione verso questo prodotto che è il vino. Per cui si può pensare che la ripartenza eh sarà importante quando ci sarà. Eh però eh i produttori di vino soprattutto quelli che non eh che non vendono nella grande distribuzione ma vendevano eh nel settore orecca i ristoranti soffrono molto perché sono sono fermi. Eh beh poi i negozi. Qui c'è un dato molto curioso sui negozi. Eh tutti i telegiornali fanno vedere le immagini ehm dei supermercati no? Dove la gente fa la coda pieni però eh i supermercati hanno aumentato le vendite solo del quattro virgola tre per cento. Mentre i negozi di prossimità quelli che e volevano far chiudere nei piccoli paesi di montagna hanno aumentato dice uno studio del trentatré virgola tre per cento in questo periodo. Per cui anche qui è una bella domanda su che su cosa vogliamo salvare del nostro paese. Vogliamo davvero togliere tutti i servizi nei paesi di montagna come è stato fatto nel recente passato o vogliamo anche rafforzarla questa provincia che dà una certa sicurezza perché uno fa la spesa nel negozio di prossimità e non fa un viaggio per andare in un supermercato dove un anziano potrebbe anche contrarre il coronavirus. Ecco in questo poi tanti piccoli negozi dopo un primo momento di shock si sono organizzati con le consegne a domicilio. Quasi più che i supermercati dove hai delle file, delle code lunghissime. Cioè ti devi mettere lì online e aspetti tre, quattro, cinque giorni. Mentre più facile io ho visto da un macellaio dove ero l'altro giorno e il macellaio mi ha spiegato che dalle sette alle otto e mezza di mattina e dall'una alle tre prende tutti gli ordini perché ha molti più ordini e poi dopo fa, sono lui e la moglie, uno sta in negozio e l'altro va a fare le consegne. Quindi c'è un lavoro molto anche di reinventarsi dei negozi. Beh sì, guarda, l'altro giorno mi hanno raccontato una cosa bellissima, un mercato rionale a Milano, in una zona periferica di Milano, tutti i negozianti di questo mercato, sei mercati comunali, scusa, mercati comunali a Milano è una realtà molto diffusa, si sono messi d'accordo e a turno vanno a fare le consegne ma dei prodotti di tutti. Noi prima del coronavirus avevamo lanciato una campagna sui negozi della colleganza, sul fatto che il negozio di montagna potesse vendere magari il prodotto che faceva al negozio di città. Ecco, questo è un esempio di colleganza, molto bello. Poi abbiamo intervistato anche Guido Porrati che per noi è il bottegaio d'Italia, quello più illuminato di tutti e anche lui ci ha raccontato, ha raccontato a tutti i suoi colleghi i meccanismi segreti per fare un delivery di successo. Noi poi abbiamo creato anche addirittura una guida online per il delivery, per aiutare il mondo della ristorazione che è quello che soffre di più, molti non riapriranno, però sono già 300 locali su questa guida e tra l'altro funzionano. Se ho la foto della copertina della guida che è online, gratuita, si trova sul golosario.it, giusto? Sì, sul golosario.it. Ristoranti e anche negozi e ti dico, stanno avendo delle soddisfazioni, anche noi le abbiamo perché vedo che è consultata da tantissima gente, non me l'aspettavo questa attenzione, per cui sai, questo ci fa pensare che il futuro non sarà tutto delivery, ma nel futuro qualcosa di nuovo dovrà esserci. Io poi ho costruito un gruppo che si chiama Revolu, con cui abbiamo aperto una sezione sul golosario.it che si chiama il sostenisario, cioè come vivere la sostenibilità e stiamo immaginando come saranno i locali di domani dopo il coronavirus, quindi come sarà la qualità dell'aria, la sanificazione, cioè ci stiamo portando avanti con architetti, avvocati, con anche social trainer, cioè un gruppo di persone che in questo periodo sta pensando e vuole offrire a questi negozi, a questi distruttatori l'occasione di essere pronti quando si potrà ripartire. Molto bello. Ti faccio tre domande secche. La prima, uno dei punti dolenti è l'agricoltura, mancanza di mano d'opera. Com'è la situazione? Ma guarda, la situazione, io l'ho rilevato l'altro giorno, mi sembra che ci sia uno scontro tra sindacati che si occupano di cose diverse. Cioè la Coldiretti ha proposto i voucher in agricoltura perché servono in questo momento, perché manca mano d'opera, un altro sindacato ha gridato vittoria perché questi voucher non sono passati. Per cui secondo me dovrebbero anche mettersi d'accordo. Cioè noi non abbiamo mano d'opera, sta marcendo la raccolta delle fragole, ormai è compromessa, della frutta di stagione. Sarà moltissima la frutta e la verdura nei prossimi mesi, come ben sappiamo, ed è già compromessa. Se è compromessa non arriva sugli scaffali dei supermercati, per cui è un problema. So che la Coldiretti si è organizzata in tempo reale con le consegne delle proprie aziende attraverso Campagna Amica, ma questo non può bastare evidentemente. C'è bisogno di raccogliere e purtroppo il personale straniero non torna, non c'è più. E anche le proposte che vengono fatte, di mettere nei campi quelli che hanno preso il reddito di cittadinanza, lasciano il tempo che trovano. Qui bisogna fare delle proposte reali, concrete, no? E quella dei voucher mi sembrava una strada buona, come lo è stata per le nostre vendemie negli anni passati. Certo. Hai parlato di vendemmia. Noi sullo sfondo, dietro di noi, ho messo questa foto, perché è una foto di una storia che mi hai suggerito tu e che ho raccontato nell'ultima newsletter, venerdì scorso, ed è una vigna, la vediamo qua, è una vigna di Barbera. La racconti tu? Beh, intanto siamo in un comune che è il comune di Rocchetta Tanaro, che confina con Masio, che è il mio paese, quindi mi sta molto a cuore. E questa è la vigna della famiglia Bologna, di Raffaella e Giuseppe Bologna, i figli di Giacomo Bologna, detto il Brida. Infatti la cantina si chiama Brida. Beh, loro in questo periodo di crisi mi hanno molto colpito, hanno deciso di piantare una nuova vigna di Barbera, con cui credo faranno un nuovo vino, una nuova Barbera, l'ennesima Barbera, oltre le quattro che già hanno. E hanno deciso di piantarla in alto, nel parco di Rocchetta Tanaro, dove hanno anche aperto un relais che adesso è fermo, doveva essere inaugurato, ma quindi è un segno di speranza, di guardare al futuro. Non è un modo di dire ce la faremo, ne usciremo. No, no, loro sono convinti e già guardano al futuro. Sai cosa mi ha fatto pensare? Quando i barbari invadevano i paesi e distruggevano tutto, e quindi distruggevano anche la vigna. È successo anche in Libano, il miglior produttore di vino del mondo, Sergio Schar, ogni tanto usciva dalla cantina e non c'erano più i vigneti. Ecco, quando poi torna la vite è un segno di pace, è finita la guerra, perché la vite prospera per tanti anni e quindi è un segno di pace. Loro hanno messo questo segno di pace a Rocchetta Tanaro. Grazie Paolo, sei stato utilissimo, ti ricercheremo nelle prossime settimane. Volentieri, grazie. Buon pomeriggio, grazie, ciao, ciao. Tra i negozi che soffrono ci sono le librerie. C'è stato un appello nei giorni scorsi di una serie di scrittori, di intellettuali, che chiedevano di riaprire le librerie, dicendo le librerie sono fondamentali, sono un bene primario, dobbiamo riaprirle. Mi ha colpito, ieri sera ho visto su Facebook invece una polemica molto forte di una libraia, una libraia che conosco perché due volte ho presentato con lei i miei libri a Lucca. Lei si chiama Gina Truglio e ha una libreria, la libreria Ubic. Ciao Gina, aspetta che sei senza audio, devi cliccare su mute, unmute. Gina ha la libreria in centro, in via Fillungo, la via principale di Lucca. Gina, quando ha visto questo appello, si è arrabbiata e ha detto, ma voi non vi rendete conto che chiedermi di aprire oggi significa condannarmi a chiudere per sempre? Mi spieghi perché? Allora, intanto grazie per avermi invitato e anche aiuto, perché ora poi se riuscirò a riaprire tutti quegli scrittori che sono lì non ci verranno più, o forse ci verranno per simpatia nella mia libreria, non lo so. Diciamo che sono giorni particolari e quindi facciamo anche presto ad arrabbiarci. Io poi non sono nemmeno una di quelle calme e pacate, prendo le situazioni molto di petto. Ogni libreria è a sé. Ci tengo a precisare che le Ubic sono tutte formate da librai indipendenti. Negli ultimi cinque anni sappiamo che hanno chiuso circa 2.500 librerie. Facciamo i salti mortali per rimanere aperti. Cioè, abbiamo sempre dovuto mandare questo messaggio del libro, no? Il libro Cibo dell'anima, il cibo e cultura, l'italiano non legge, l'Italia si trova male perché l'italiano non legge, eccetera, eccetera. E io adesso mi trovo questa bellissima lettera che dice delle cose anche molto giuste, meravigliose, ma purtroppo per me, per i miei costi e per quelle di altre librerie, anche di altri librari come me, in questo momento aprire sarebbe una debacle. Io ho dei costi mensili altissimi perché, come hai detto prima, sono nel pieno centro storico di Lucca, per cui i dipendenti. La mia libreria sono 250 metri quadrati su due piani, il che implica tre dipendenti più me e siamo pochi. Faccio tante presentazioni, facciamo tante cose e il lavoro è tantissimo. Quello che mi è dispiaciuto è che a volte si parla senza conoscere non solo le problematiche ma anche il tipo di lavoro. Ci sono dei librai, anche dei librai UBIC, con librerie diverse e situazioni anche diverse dalle mie che in questi giorni si stanno dando da fare con la consegna a domicilio. Benissimo, benvenga. Io sono sicura che dovrei chiudere, ripeto, proprio per i costi. Come ti dicevo stamani, dimmi scusa. No, spiegaci questo che è fondamentale. Nel momento in cui tu sei chiusa, allora puoi usufruire della cassa integrazione, puoi rinviare in parte il pagamento dell'affitto, delle utenze e del resto. Nell'istante in cui tu riapri, tu devi ricominciare a pagare tutto. E nel momento in cui ripaghi tutto, dovresti, per poter stare in piedi, e tu mi hai detto oggi quando ti ho cercato, mi hai detto, io in questi anni non ho portato a casa niente se non di pagare tutte le spese, allora in quel momento tu dovresti riavere la tua clientela. Ma nel momento in cui la gente fa la coda con la mascherina per andare in farmacia e compra soli beni di prima necessità, tu mi dici quanta gente vuoi che venga in libreria. Significherebbe quindi che a me ripartirebbero le spese, non avrei guadagni e a quel punto in uno o due mesi probabilmente sarei costretta a chiudere per sempre. Anche prima, anche prima e poi quello che è stato messo in atto dal governo, io non ci trovo nessunissimo aiuto, la cassa integrazione è stata concessa per nove settimane, copre un periodo che va dal primo marzo al 31 luglio, ma sono solo nove settimane, per cui se io ho chiuso il 10 marzo e starò chiusa aprile, nove settimane se non me le so. Ne hai fatte quattro e tre sette? Ne ho fatte sette, tieni conto che un giorno di cassa integrazione è una settimana, quindi se anche io metto i miei ragazzi in cassa integrazione e poi li giostro dicendo vabbè due me li tengo, uno lo tengo in cassa integrazione, uno lo faccio, sarebbe comunque un caos perché se un giorno mi vale una settimana lo stesso me li fumo. Io non so chi abbia fatto queste disposizioni. Speriamo un attimo, com'è la storia invece degli affitti? Cioè l'affitto si è obbligato a pagarlo o no? Com'è la cosa? La storia degli affitti è anche più tremenda perché io in teoria dovrei pagare il mese di marzo, dimostrare che l'ho pagato e poi chiedere il credito di imposta del 60%, quindi un'utopia perché io marzo non ho lavorato. Già ripeto, si facevano i salti mortali prima, ma i salti mortali veramente con dilazioni di pagamento, con tutto quello che può servire a mantenere in piedi un'attività da dieci anni e adesso così non c'è più nemmeno dilazioni di pagamento, cioè non solo c'ho il vecchio, adesso c'ho anche il nuovo e questa cosa a me mi fa mancare l'aria. Anche il discorso delle banche io non ho capito dove è la liquidità, ci sono le rinigraziazioni dei finanziamenti, io non ho mutui, quindi ce l'avevo, l'ho pagato. Non ho prestiti in corso, solo un filo e per quelli non è previsto niente. Se vado a chiedere un prestito di 30 o di 50 mila euro devo pagare circa 2.000-2.800 euro all'inizio e chi ce l'ha? Se ce l'avevo non glieli chiedevo, mi sembra che forse chi ha fatto questo decreto crede che gli imprenditori, i commercianti siano tutti dei furtetti, basta andare a vedere chi ha pagato le tasse, basta andare a vedere che in questi anni è sempre stato corretto, ha pagato i contributi, ha pagato gli stipendi, non si è preso niente per sé, allora si può fare. Il libro venduto in nero è una cosa che non si può fare. Non si può fare, quindi bellissimo, bellissimo che adesso ci si renda conto finalmente che il libro è il cibo dell'anima come la tachicherina è quella per il corpo, dopo però la voglio vedere la gente che viene in libreria, perché non è che è un vizio il libro, non sono le brioche di Maria Antonietta il libro, il libro deve essere sempre. Già usciamo da politiche che ci hanno veramente puntato una pistola alla tempia, ora è uscita questa legge che però è stata fatta prima di questo Covid, è uscita la legge per cui finalmente tutti i disconti sono portati al 5%, ripeto è una legge che è stata fatta prima, dovrà anche quella essere un pochino rivista, dateci modo, io voglio solo vivere, voglio lavorare, voglio avere modo di pagare, ma se questi sono gli aiuti che vengono date alle imprese, non ci siamo per niente Mario. Gina, stai qui con noi perché inserisco, noi tutte le volte che ho fatto questi live Facebook ho sempre un ospite, eccolo qui, il nostro blatto e lui ogni volta ci consiglia un album, un disco, una canzone che sia, come dire, comfort, di aiuto in questo momento e lui però ha anche un negozio e ha un negozio di vinili, di dischi che si chiama Back Door che sta a Torino. Ecco tu pensi di riaprire, vorresti riaprire, sì o no, sei d'accordo con Gino oppure è un'altra posizione? Ma dunque, io vorrei riaprire ovviamente per un bisogno umano, che avrei anche voglia di vedere i miei clienti, lo dico senza piageria, per sapere come stanno e perché ci si sente a distanza, ci si sente in qualche modo, ma avrei davvero voglia di rivederli. Sono d'accordo su molte delle cose che ha detto, chiaramente secondo me la differenza la fa la sicurezza anche di chi può entrare nel negozio, perché magari i clienti vorrebbero anche rientrare, ma è contraddittorio, oggi sentivo parlare di mascherine e guanti che vanno fornite anche dai negozianti, allora devono farcela avere, bisogna metterci in condizioni di averle, poi bisogna mantenere le distanze, le librerie aggiungerei indipendenti e i negozi di dischi indipendenti, che peraltro ormai sono meno diffusi del panda gigante, non sono realtà grandi, come facciamo? Tiriamo giù delle righe con lo scotch marrone all'interno come nel mondo, è complicatissimo, quindi io sono sicuro che nel momento in cui ci dicono ok potete riaprire, molti clienti vorrebbero rientrare, ma devono essere messi in condizione di essere sicuri di poterli fare, c'è molta incertezza, giustamente la gente poi comincerà a domandarsi ma ci vado, c'è qualcuno, aspetto fuori, è ancora molto tutto complicato, nessuno qui vuole vivere di reddito, di cittadinanza, noi vogliamo lavorare sicuramente anche perché chi fa un lavoro, davvero chi fa cultura in maniera indipendente come noi, si reinventa ogni giorno e si scontra con colossi enormi, sarebbe un discorso più ampio ma è così, quindi nessuno vuole tirarsi indietro che semplicemente ci vogliono delle regole precise, non basta dire che è bello, apriamo, torniamo, certo che è bello, ma ci vogliono regole, ci vogliono tutela, deve essere tutto molto chiaro, io prima ancora che dalla mia parte, mi metto dalla parte dei clienti, dei miei clienti che sono convinto che rientrerebbero subito, ma come? Con le mascherine che gli do io, l'igienizzante, insomma è tutto un po' da regolamentare, capisco che sia difficile, ma non basta dire ok è fatta, ritorniamo. Grazie, grazie Gina, in bocca al lupo, spero che ci siano le condizioni presto perché si possa ritornare a una vita che permette di riempire le librerie e di frequentarle. Grazie, grazie Mario, ciao. Grazie a te. Maurizio, come ogni volta, tu alla fine ci regali una cazzone. Che cosa ti sei inventato oggi? Beh, oggi l'invenzione si lega anche un po' a un fatto, se vuoi, triste, cioè che lunedì ci ha lasciati Bill Withers per complicazioni cardiache all'età di 80 anni, che è stato l'autore di una canzone con la quale tutti più o meno abbiamo un buon rapporto, forse anche per il suo utilizzo nel cinema, nella pubblicità, che è Inno San Suo. Chi è Bill Withers? Bill Withers è stato quello che per la comunità afroamericana era considerato il contraltare di quello che poi sarebbe diventato per la comunità bianca Springsteen, cioè qualcuno che sapeva parlare alla gente comune, si sostiene che lui fosse l'afroamerican everyman, cioè a differenza di molti altri artisti neri dell'epoca che erano più politicizzati, lui raccontava in maniera estremamente semplice e isolare la vita di tutti i giorni, tanto che fu anche attaccato per questo, all'epoca la politicizzazione anche all'interno della critica musicale era forte, una volta ho accusato di essere troppo poco blues e lui disse, ma lo state dicendo a me? Cioè io sono il primo della mia famiglia a non fare il minatore, mia madre ha passato la vita inginocchiata a pulire per terra e voi venite a chiedermi che cos'è il blues, io sono il blues. E allora lui si dedica a una carriera che ha anche un risvolto interessante, perché lui alla fine nel 1985 si ritira e dice, per me va bene così, voglio dedicarmi davvero alla vita che ho cantato, cioè una vita tranquilla e solare. E la sua canzone che poi ascolteremo, che è Inno Sunshine, esce nel 1971, pensate che all'epoca Bill Withers lavorava, non viveva di musica, e lavorava in un'azienda che produceva i componenti per i bagni dei Boeing 747. Cioè mentre lui assemblava i bagni degli aerei, pensava a una vita più solare e appunto a qualche canzone di conforto. È una canzone curiosa, dove lui a un certo punto, quando la presentò i suoi musicisti, si accorsero che ripeteva Inno, cioè lo so, per ben 26 volte durante la canzone, che era una follia pazzesca, ma era talmente divertente che lo convinsero a mantenerla e a non modificarla. E questa canzone poi, come dicevamo, è nota anche perché entra in alcuni film, per esempio è famosa la sequenza nel film di Notting Hill del 1999, in cui segna un momento fondamentale dell'alternarsi della storia d'amore tra Hugh Grant e Julia Roberts. Siccome noi abbiamo da un po' sperimentato questa... Proviamoci, proviamoci anche oggi, infatti. Proviamoci anche adesso, così familiarizziamo con la canzone nel caso. La canzone segna anche Hugh Grant, che passeggia a Londra, vicino a Londra. Come era giovane. Tra l'altro Hugh Grant nel film possiede una piccola libreria indipendente, non a caso. E questa canzone è una canzone di conforto, come diciamo spesso. No, è una canzone facile, apparentemente, ma di grande dolcezza e sapienza musicale. Bellissimo. Per questo c'è il mio video di oggi. Grazie, grazie Maurizio. Ci rivediamo, allora, con Maurizio e con tutti voi, ci rivediamo martedì, martedì prossimo. Adesso abbiamo, ho lanciato un sondaggio su Facebook, se tenere l'orario alle 16.30. Perché sono arrivate molte mail, messaggi diretti su Facebook, di persone che mi chiedono, ah ma durante la settimana io lavoro, per cui per me le 16.30 è un problema, provo a farlo più tardi, eccetera, eccetera. Vi dico onestamente che io vorrei evitare di andare sopra le 18, in cui c'è la conferenza stampa della protezione civile, ed è un momento che tutti ascoltano, non mi va di essere a cavallo. Per cui o si fa prima, quindi alle 4.30, o al massimo alle 5, dalle 5 alle 6, oppure a quel punto si fa dalle 6.30 alle 7.30. Per cui c'è sulla mia pagina Facebook questo sondaggio, ditemi la vostra e domani, democraticamente, sceglierò, non io, ma quello che avete deciso voi. Per me onestamente fare alle 4.30, alle 5 o alle 6.30 è la stessa cosa. Se più persone sono soddisfatte da un orario o da un altro, decidiamo in quel modo. Per cui ci sarò martedì, ci saremo venerdì, sono anche i due giorni dell'uscita della newsletter. La newsletter, vi ricordo, è altre storie, ci si scrive gratuitamente sul sito mariocalabresi.com Ecco, per un attimo forse mi avete perso, mariocalabresi.com o mariocalabresi.it, martedì la newsletter e martedì pomeriggio, forse alle 4.30, forse alle 5, forse alle 6.30, voi avremo la prossima diretta. Buon pomeriggio e buona domenica sera a tutti. Buon pomeriggio e buon pomeriggio.